Ho riascoltato stamattina questa intervista, piuttosto lunga, ma che è assolutamente la cosa migliore che ho sentito per quanto riguarda l'informazione rispetto al Covid. Questa intervista è del marzo scorso, cioè è stata registrata il 21 marzo, quindi nel pieno della prima ondata della pandemia. Credo che qui, in questa intervista, si trovano anche tante risposte per quello che riguarda quello che è stato fatto, quello che non è stato fatto, le responsabilità, più o meno quello che si sarebbe dovuto fare, quello che si si poteva aspettare, quello che non si si poteva aspettare e così via. L'importante è la data, ovviamente, perché un conto è dire come fanno gli sciacalli, insomma, non si sono fatte certe cose quando poi nel momento in cui si sarebbero dovute fare si diceva che non si dovevano fare. Un conto è fare un'analisi lucida e dirlo in tempi non sospetti quello che ci si potrà aspettare e quali sono gli strumenti che si sarebbero, che si dovrebbero mettere in campo, che si sarebbero dovuti mettere in campo, insomma, no? E soprattutto la capacità di fare anche un'analisi, una collocazione storica, insomma, di inquadrare esattamente il problema. E' la cosa più lucida e più informata che mi è capitato di sentire, che poi è passata anche in una, come dire, un'emittente che non è un'emittente nazionale, ma che ancora complimenti, insomma, a chi l'ha messa in onda, a chi ha dato la possibilità poi di ascoltare queste informazioni. Ecco, secondo me, aver ben presente quello che si pensava in quel momento e quali erano le proiezioni per il futuro che venivano fatte e qual è la definizione da parte di un esperto, insomma, di uno studioso, insomma, del problema, di quello che è, diciamo, il nemico che ci troviamo ad affrontare. Adesso, nel corso della seconda ondata, cosa si pensava anche della possibilità di una seconda ondata e della probabilità anche di una seconda ondata. E comunque, quello che gli dice a un certo punto, la necessità di considerare e di mettere in campo lo scenario peggiore e di attrezzarsi nei confronti dello scenario peggiore che sarebbe dovuto capitare. E anche delle analogie che faceva anche con la spagnola, analogie che avevo pensato anch'io prima di sentire questa intervista. Ecco, io, come dire, invito tutti voi a riascoltare questa intervista abbastanza lunga ma estremamente importante, estremamente informata, estremamente documentata, precisa, puntuale, che so io, insomma, che si dà tutti gli strumenti, secondo me, per valutare tutto quello che anche adesso si dice e si fa e valutarli con serietà, con una precisione scientifica, insomma. Anche per giudicare quello che ci dicono gli esperti e, tanto più, anche quello che poi si sente passare in rete dai non esperti, insomma. E, ovviamente, è quello che ci dicono i politici, insomma. Questo ci serve anche per, così, insomma, per dare il giusto peso e anche per inserirsi nella giusta posizione in molte discussioni e dibattiti, insomma. Soprattutto quando questi dibattiti tornano indietro e vogliono individuare le responsabilità, insomma. E poi quello che si mette in campo per il presente o quello che si è costretti a mettere in campo per il presente e per quello che non si è fatto per il passato. Brevissimo questo video, soltanto per invitarvi a riascoltare, a me ha fatto bene, insomma, riascoltare questo video, questa intervista che ho postato il 25 marzo di quest'anno. Ma la trovo tuttora molto attuale, anzi, ancora quasi più attuale di prima, perché ci troviamo nel mezzo di una situazione che in qualche modo era prevista. Allora, insomma, io credo che vadano ascoltate, cioè chi è capace poi di prevedere, insomma, e di sapere e di guardare più in là, insomma, del momento. Insomma, merita ancora di più l'attenzione e l'ascolto, soprattutto quando lo fa in maniera così informata, così scientifica come viene fatta dall'intervistato, insomma. Vi auguro un buon ascolto, anche un buon riascolto, fa bene anche riascoltarla a posteriori, no? Io trovo di sì. Un saluto. Il link di questa intervista che poi ho ripostato anche nella pagina community, insomma, del mio canale, lo trovate ovviamente qui sotto il video, insomma. Basta che lo cliccate e potrete riascoltarla. Una buona giornata. Grazie. Grazie.